Una partita bellissima, fino all'ultimo istante. Montevarchi e Prato si danno battaglia nel caldo del Gastone Briliperi e ne esce la gara più affascinante del torneo. È in primavera che si decidono i campionati e in una giornata primaverile arriva la lanciatissima formazione di Alessio De Petrillo. Sette risultati utili di fila con sei vittorie e un pareggio. Reduce dal buon punto nel derby con la Sangio, l'Aquila gioca la prima di sette finali come le ha definite la società per cercare di consolidare e tenere fino in fondo il piazzamento nella pool promozione. Venturi nel classico 4-3-1-2 sceglie Rialti e Ascii esterni difensivi e Diarrasuba ex di turno rifinitore dietro le punte. Neppure il tempo di mettersi seduti e al secondo minuto su azione da fallo laterale e su sì si mangia un gol. Bravo il portiere Fontanelli. Al quinto però il Montevarchi va in vantaggio con il cucchiaio di Masini. Colpevole la disposizione della difesa laniera. Sembra tutto facile per l'Aquila che all'undicesimo sulla combinazione Masini e Sussi sfiora ancora il gol. Colpo di testa neutralizzato da Fontanelli. Ma il Prato c'è, sale, ci crede, cresce. E al ventitresimo l'1-1 colpo di testa perentorio di Adama Fofanà su assist di Tomi da sinistra. Ancora Fofanà al ventinovesimo per poco non beffa il team di casa sull'assist del Valdarnese Marini. Alla mezz'ora Sussi va giù in area il destro largo di Masini. L'arbitro dice che è tutto regolare. Nel finale di tempo il Montevarchi cala. Quarantesimo Fofanà, buca Tognarelli e sul piazzato Pellegrini. Stavolta è davvero molto bravo. Quarantatresimo però nulla può all'estremo Montevarchino sul colpo di testa del 2000 a Carli. Il cross stavolta è di Shannamè. Nella ripresa il Montevarchi ribalta la situazione. Già al secondo minuto sfiora il pari con Mannella al dodicesimo. Masini crossa, testa di Salvadori a far da sponda. Di Arrasuba in mezzo e la rovesciata del nuovo entrato Biagi fa esplodere il Gastone Briliperi. Due a due, una rete bellissima, ma esultano i tifosi Aquilotti anche al ventiquattresimo per il ritorno in campo del figlio al prodigo purtroppo per l'infortunio. Bobo, Vieri, Regoli. Trentaduesimo, grande occasione di Essussi su ispirazione di Mosti Falconi. Al trentacinquesimo un sinistro però velenoso di Tomi a mani aperte, Pellegrini in corner. Non c'è un attimo di respiro. Trentasettesimo, Regoli trova la porta sull'assist di Biagi ma trova anche la risposta di Fontanelli. Quando il mesh sembra indirizzato sul pari al quarantesimo, il gran gol di Simone Biagi, il 3-2 sull'angolo di Donatini. Tutto molto bello, tutto per una giornata speciale del Montevarchi che scala ancora la classifica. Grazie a tutti.